Oggi a Torino sta piovendo, sta piovendo forte, già da ieri che piove anche se ci sono stati dei momenti di tranquillità ma comunque sia questo discorso che vi sto facendo è per avvisarvi che io questi giorni se piove non posso andare in giro a fare video a me non mi va proprio perché ho già fatto degli altri video in passato sia con Nello che da solo sotto la pioggia e ho notato che oltre ad essere scomodo perché bisogna tenere l'ombrello da una parte e il telefono dall'altro e se uno vuole cambiare mano non può farlo praticamente se uno si stanca per fare questi video soprattutto se sono lunghi ma il punto è questo, il fatto che c'è il vento, il fatto magari che c'è l'umidità che uno prende e ammalarsi per un video se fosse un lavoro posso capirlo ma così non è che fosse più di tanto senso e poi perché in realtà è proprio scomodo cioè il telefono poi si bagna, perché devo rovinare il telefono che poi mi serve per un video? Lo faccio in altri momenti Per questo io vi sto facendo questo video che poi me lo so, Torino anche con la pioggia può avere un certo fascino soprattutto se visto dal punto di vista del centro magari non nelle strade tanto normali però comunque è sempre una cosa particolare anche se le giornate sono più cupe ma questo è normale quando piove, questo vale per tutte le città ovviamente tranne quando c'è la pioggia con il sole perché ogni tanto può capitare e dopo magari anche un bel arco baleno oggi non è proprio il caso eh no, oggi non è proprio il caso e comunque non faremo più video sotto la pioggia almeno che dovesse capitare per caso che ci troviamo in mezzo alla strada e si metta a piove all'improvviso allora si può fare ma in questo caso no, no, non credo proprio quindi se vedete che non facciamo video è per questo motivo qua ma non è un problema perché tanto poi si recupera negli altri giorni in cui praticamente c'è il sole o comunque anche se non c'è il sole però non piove è più facile fare video come sapete io ne sforno tanti di video alla settimana anche se ci sono dei giorni in cui mi piace anche rallentare perché farne sempre di continuo magari a volte ci sono dei giorni che magari non ho voglia di farli o perché voglio riposarmi un po' oppure perché in pratica devo portare avanti anche altre pagine che ogni tanto sono ferme però gli devo dare un po' di di sprint no? devo cercare di fare in modo di farle andare avanti perché sono state veramente ferme per tanto tempo adesso infatti ho già iniziato a caricare un po' di contenuti anche anche in quelle pagine lì e niente questa è una cosa anche importante perché giustamente non devo parlare solo di Torino ma anche di altri argomenti perché comunque ho un pubblico anche in altri progetti ovviamente negli altri progetti su qualcosa c'è anche Nello forse poi più avanti ci sarà anche Cristina chi lo sa però non è detto adesso ad esempio c'è una pagina che abbiamo che si chiama sketch divertenti abbiamo fatto pochi video però magari più avanti vediamo un po' di includere anche Cristina se si riesce e di vedere di creare qualche video insieme in modo per poterci divertire principalmente noi infatti si chiama sketch divertenti non tanto per far divertire gli altri ma per far divertire noi stessi dato che comunque è sempre un hobby e non non caricheremo contenuti di continuo perché giustamente dedichiamo più tempo sia al mio viaggio a Torino che ad altre cose tra l'altro Cristina ha una sua pagina che ogni tanto fa qualcosa poi per di più c'è Nello che ha pure la sua e giustamente uno deve cercare anche di portare avanti tutti i progetti potete tenete conto che anche Cristina fa tipo avete vi ricordate quando ha fatto tipo era vestita tutta all'antica no che vanno in giro lei insieme a Claudio se non ricordo male della Fenice Rinovata in pratica vanno in giro per poter far vedere delle rievocazioni storiche quindi potete capire che anche lei è impegnata in queste cose qua poi le dipinge fa anche altre cose quindi gli hobby sono vari e quindi si dedica più tempo in base diciamo alle proprie possibilità e in base ai propri progetti più o meno questo è il fatto quindi adesso vi ho voluto fare un po' una chiacchierata per dilungarmi un po' di proposito proprio perché visto che tanto non posso andare in giro non posso fare video sotto la pioggia che non è conveniente almeno per me neanche per loro sinceramente e e niente è stato però ho avuto sempre un contatto con voi in modo che così almeno ci possiamo fare anche una chiacchierata perché altro sono io che chiacchierò con voi certo voi vi potete rispondere tramite i commenti ovviamente questo è il metodo per poter comunicare tra di noi io adesso stacco questo video poi ci vediamo nei prossimi vediamo cosa va a raccontarvi perché ci saranno delle cose che io vi racconterò solo tramite video come questo no magari vi parlerò di Torino però me ne sto comodo comodo a casa e così almeno è anche più comodo perché ho il treppiedi avendo il treppiedi ad altezza diciamo viso almeno così è più comodo e così ho le mani libere anche niente io adesso vi saluto e ci vediamo nei prossimi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.